Una gara all'ultimo scatto. Per immortare gli angoli meno conosciuti di Pisa non importa essere grandi fotografi ma avere un buono spirito di osservazione e uno smartphone. A Pisa è partito il challenge Oltre la Torre, promosso dalla sezione Sochi Coop insieme a blogger e community web del territorio come Iger Pisa, Visit Pisa, Sogni Low Cost, un foglio di storia e foto toscana. Per partecipare alla competizione basta usare l'applicazione Instagram, il social network dedicato alla fotografia. Primo lo scatto, poi il fotoritocco e infine le immagini finiscono sul web. Ma attenzione, stavolta il soggetto non è piazza dei miracoli. Vogliamo che le persone, i cittadini, i turisti raccontino la città di Pisa che vive all'ombra della torre. Quindi tutto ciò che non è questo celebre monumento sicuramente importante, interessante, bello però insomma ultra conosciuto. Pisa è una città, intanto è una città piccola, la chiamavano una città a misura duomo, quindi percorribile bene a piedi, in bicicletta e in questi percorsi sia i pisani ma soprattutto chi si trova per la prima volta oppure da poco nella città può scorcere tantissime opere d'arte, tantissime bellezze artistiche. C'è tempo fino al 25 maggio, basta postare le immagini su Instagram con i tre hashtag ufficiali, oltre la torre Pisa e Iger Pisa. Gli scatti migliori saranno stampati e esposti alla COP di Portamare durante il giugno pisano e distribuiti dietro un'offerta libera. Il ricavato andrà alla fondazione Il Cuore Si Scioglie. Il racconto per immagini permetterà anche agli stessi pisani di riscoprire il territorio. La sezione SociCop, quindi la COP, non è una realtà legata solo come si può immaginare alla grande distribuzione ma è una realtà di distribuzione sociale e quindi è importante il contatto con il territorio, in questo caso specifico è un contatto legato ai giovani perché Pisa appunto è una città frequentata da turisti, da studenti, è una città universitaria. Nelle prime due settimane sono arrivate oltre 500 foto e tante continuano a essere scattate, qualche consiglio però non guasta. Non esagerare con Photoshop, con effetti speciali, con fumetti, non ritagliare le foto, allora Instagram nasce come un social network di foto quadrate quindi lasciarle quadrate, poi farsi un po' ispirare, magari cercare di lasciare un soggetto intero se c'è una facciata a non tagliarla a metà. Grazie a tutti.